Abbiamo con noi Alessandro Curioni, direttore del centro di ricerca dell'IBM di Zurigo, benvenuto, scelga, grazie, e Bruno Oberle, professor Bruno Oberle, che è professore di economia verde, per dirla in breve, ma che è stato anche direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente, quindi una responsabilità per dieci anni, che è accompagnata lo sviluppo. Loro parleranno per 75 minuti con voi, tra di loro, e con Alessio Petralli, che condurrà questo dibattito, fino al prossimo intervento, vi annuncio già che ci sarà Gino Roncaglia, che in soli 15 minuti ci farà la sintesi delle novità digitali del 2018, ciò che ci siamo magari persi, correndo nei boschi, come fa Alessio Petralli. Buonasera ancora una volta, benvenuto ai nostri ospiti. Sono molto contento di avere due voci così autorevoli, lo sono davvero, non è retorica. Parto dall'IBM, ricordando che il centro di Ryshlikon è il più grande centro di ricerca IBM in Europa, il più prestigioso, possiamo dirlo. Lì dal 1956 ha dato quattro premi Nobel all'IBM, su sei, credo, quindi non è poco. Ci sono 400 ricercatori che lavorano sulle colline sopra il lago di Zurigo, diretti da, mi piacerebbe definirlo anche un cugino comasco, insomma, dell'Insubria. Bruno Oberle, che rappresenta il pubblico da un certo punto di vista, è stato direttore del Dipartimento Federale dell'Ambiente, quindi il più alto funzionario in assoluto per dieci anni, dal 2005 al 2015. Adesso è professore appunto di Economia Verde, di Green Economy al Politecnico Federale di Lausanne, ma prima è stato anche attivo nel privato, ha fondato uno studio di ingegneria, quindi abbiamo veramente delle belle esperienze che si propongono in questo dibattito. Io partirei subito dando la parola a loro, evidentemente, cominciando da Alessandro Curioni e ponendo una domanda che sta già scritta qui, è molto vasta, affrontiamo i massimi sistemi ma sapranno loro stringere su sistemi, come dire, più circoscritti e più accessibili. La domanda è quali sono i veri problemi e quali le possibili soluzioni? Una bella domanda per cominciare. Allora, quando noi parliamo di environment, di sostenibilità e dei problemi e delle sfide che la nostra società deve risolvere nel futuro, molto spesso parliamo di inquinamento, di fame, di energia, di salute e cerchiamo, abbiamo cercato, stiamo ancora cercando di risolvere questi problemi qui come se fossero delle scatole chiuse, isolate, una dall'altra. La verità vera è che tutti questi sistemi sono molto interconnessi, e che bisogna avere un approccio globale per risolverli. Dobbiamo partire dal presupposto che tutti quanti vogliamo vivere meglio, vogliamo vivere più a lungo, vogliamo fare molte più cose, però il nostro mondo è finito. E un approccio molto, molto, diciamo, selettivo e molto specializzato non funzionerà. Ora, cosa sta succedendo? Sta succedendo un parallelo, qualcosa che secondo me ci darà degli strumenti per cercare di risolvere questi problemi in modo più strutturale e omogeneo. Grazie alla digitalizzazione noi abbiamo prodotto e stiamo producendo e siamo in grado di creare una quantità di dati enorme che contiene tanta conoscenza e allo stesso tempo, grazie a alcuni metodi di intelligenza artificiale. Possiamo non analizzare questi dati e estrarre conoscenza in modo settoriale, ma cominciare a connetterla a un livello superiore. E tutto questo, secondo me, ci dà una buona opportunità, se lo facciamo nel modo giusto, di risolvere questi problemi in modo più strutturale e migliore. vuole magari passare a mostrare quanto aveva, perché ci eravamo ripromessi una ventina di minuti a testa all'inizio, se vuole mostrare qualcosa. Certo, ci abbiamo qui. Allora, vediamo se funziona. Saltiamo questa. Allora, in questa, per ripetere quello che stavo dicendo prima, questa slide ci sono 17 che sono, diciamo, i problemi fondamentali che la nostra società ha e i goal che le Nazioni Unite hanno messo come goal per il futuro di cose che devono essere risolte in modo di creare una crescita sostenibile. E come vedete qui, come dicevo prima, salute, fame, inquinamento, acqua, povertà, eccetera, eccetera, energia, climate action, ok? Tante cose separate. E noi, come IBM, come vi dicevo prima, stiamo lavorando per cercare di risolvere questi problemi con un approccio più strutturato e se prendete tutte queste cose qui, noi pensiamo che con l'eccezione di un paio, tutto il resto possa essere in un modo o nell'altro studiato, capito ed eventualmente risolto utilizzando delle tecniche che sono basate, come dicevo prima, alla scienza dei big data e dell'intelligenza artificiale. Per farvi capire che queste non sono solo parole. Vi voglio far vedere due slide. Prima cosa, la quantità di dati che noi produciamo sta crescendo e cresciuta in modo esponenziale, ok? E continuerà a crescere in modo esponenziale. Questo è qualcosa che tutti sappiamo, ma non è la parte importante del problema. La parte importante del problema è che oggi, con le tecnologie, diciamo, che vengono dal passato, la digitalizzazione della prima e della seconda rivoluzione digitale, siamo in grado di analizzare e utilizzare solo una piccola quantità di dati. Dati che sono strutturati e non dati non strutturati che è dove si condensa la maggior parte della conoscenza. Dati non strutturati sono immagini, video, suoni, pubblicazioni scientifiche, report tecnici, la nostra discussione oggi. C'è una grande quantità di conoscenza che è sviluppata e che non siamo in grado di utilizzare. In più, il 90% di tutti i dati che noi abbiamo creato, accumulato, negli scorsi dieci anni, non sono stati neanche guardati e utilizzati. Non perché non volevamo farlo, perché non eravamo capaci di farlo, ok? Un'altra cosa è che tanti dati, specialmente quelli che vengono dai sensori, che mettiamo adesso dappertutto, cioè abbiamo sui nostri telefonini una decina di sensori di qualsiasi cosa che potrebbero essere utilizzati per cercare di capire meglio il nostro mondo ed eventualmente prendere delle decisioni migliori, perdono il loro valore in millisecondi, meno di un secondo, ok? E l'altra cosa è che tanti di questi dati qui sono creati in modo distribuito per come la tecnologia è evoluta. La maggior parte dei dati sono creati oggi non nei grandi mainframe, nelle banche, ma nei nostri telefonini, nei nostri dispositivi wellness, eccetera, eccetera. Per cui, se io dico che dentro questi dati c'è la conoscenza che è necessaria per noi per cercare di capire i sistemi complessi, ok? In modo un pochettino più razionale, e noi non la utilizziamo, cioè 90%, se uno prende 60% e 90%, vuol dire che utilizziamo veramente una piccola quantità di dati, buttiamo via un valore immenso. Questo è il motivo per cui l'intelligenza artificiale, con tutti gli annessi e connessi, è qualche cosa che dobbiamo riuscire a fare bene e dobbiamo riuscire a utilizzare bene, perché è l'unico modo che ci permette e ci permetterà di analizzare questi dati, tirare fuori la conoscenza e connettere a un livello superiore. Non tutte le altre sfumature delle connotazioni dell'intelligenza artificiale, sì, sono interessanti, sono importanti, possono andare in qualche bel film, eccetera, eccetera, ma il valore fondamentale è l'estrazione della conoscenza. E questo è il motivo per cui, semplicemente per farvi avere un'idea, quando parliamo di intelligenza artificiale, oggi siamo in grado di avere delle applicazioni di intelligenza artificiale che sono in grado di superare la capacità umana per applicazioni e funzioni molto specifiche. Capire il linguaggio? Analizzare un'immagine? Le macchine sono già meglio di noi, ok? Con il tempo queste capacità diventeranno un pochettino più generali, quello che dicevo prima, non associate con una singola applicazione, ma più generale, ed esattamente quando arriviamo a questo punto, dell'intelligenza artificiale più generale, che potremmo effettivamente cercare di risolvere alcuni di quei problemi. E quello che noi crediamo, e già sta succedendo, è che questi metodi permetteranno non solo una specifica applicazione, ma per quasi tutte le industrie e le professioni di avere degli strumenti che portano al professionista, la persona che deve prendere decisioni, siano decisioni di business, industriale, o anche decisioni che hanno un impatto sociale o politico, di avere tutte le informazioni necessarie per cercare di prendere la decisione migliore con la conoscenza che uno ha in quel momento, che magari non è la soluzione giusta, ma sicuramente è la soluzione più obiettiva con la conoscenza che esiste. Oggi prendiamo queste decisioni utilizzando probabilmente 5-10% della conoscenza che è disponibile. Questo è il motivo per cui in IBM Ricerca e anche in Rushlicon, il 90% delle attività di ricerca hanno come focus lo sviluppo di nuovi metodi di intelligenza artificiale, molto più accurati, senza bias, molto più reliable. L'applicazione di questi metodi alle industrie e ai problemi di cui dicevamo prima, creazione di nuovi strumenti computazionali, l'architettura e l'hardware che abbiamo oggi era fatta e stata concepita per il mondo del passato, ce ne abbiamo bisogno di nuove per riuscire a continuare a sostenere questa rivoluzione, e poi anche creare delle infrastrutture che chiamo blockchain che riescano a dare più credibilità ai dati, perché questo è un altro aspetto. Per fare in modo che quello che ho detto funzioni e abbia un valore, secondo me, i dati che ho devono essere credibili e devo avere fiducia della qualità dei dati. Se non sono credibili e non ho fiducia dei dati, qualsiasi cosa che io ci faccio sopra non ha nessun valore. Per cui questi sono solo i quattro campi di ricerca fondamentale che sono importanti per creare la tecnologia del futuro. E vi voglio dare qualche esempio, perché tutto quello che ho detto non è qualcosa che dobbiamo aspettare 5, 10, 20 anni per applicare. Sono cose che si possono fare già oggi, le stiamo già facendo. Inquinamento. Questo è un progetto che noi chiamiamo Green Horizon, orizzonte verde. Qualcosa che abbiamo fatto, iniziato con la città di Pechino, che probabilmente è una delle città che è cresciuta di più. Se voi andavate a Pechino 15 anni fa, c'erano praticamente 20 anni fa solo biciclette. Se oggi andate lì, trovate la bicicletta con una persona morta sulla strada, perché non ce ne sono quasi più, sono solo macchine. Per cui è cresciuta in modo esponenziale, l'inquinamento è cresciuto in modo esponenziale, ma non solo un inquinamento da ozono, polvere sottili, ossidi vari, eccetera, idrocarburi. Per cui è diventato veramente un problema di sostenibilità urbana. Cosa abbiamo fatto noi con il governo cinese e con il sindaco di Pechino? Abbiamo sviluppato dei sensori mobili, 1500, che abbiamo messo su delle automobili, che girano per la città. Abbiamo aumentato i dati, per misurare le polveri sottili, di questi sensori con immagini satellitari, perché ovviamente la copertura nuvolosa sulla città è molto importante per tanti dei fenomeni chimici che si possono sviluppare. Abbiamo aumentato questo con previsioni meteorologiche, venti, piogge, eccetera, eccetera, e messo tutto questo in un modello analitico predittivo. Qual è stato il risultato? Il risultato è che siamo in grado di prevedere con tre giorni di anticipo la distribuzione dell'inquinamento nella città e siamo in grado di prevedere con dieci giorni di anticipo l'effetto di un cambiamento che noi possiamo decidere, per esempio smetto la produzione in questa fabbrica, blocco il traffico in questa zona della città, ok? Chiudo questo tipo di attività in un'altra zona della città. Siamo in grado di predire quale sarà l'effetto in dieci giorni. Per cui riusciamo anche ad ottimizzare la produzione, il movimento, il trasporto, per fare in modo di tenere la qualità dell'aria buona abbastanza per una vita decente. E tutto questo oggi ha avuto un impatto sulla salute, l'inquinamento sulla salute di più di un miliardo di persone. Un singolo progetto. Sensori, digitale, intelligenza artificiale. E per darvi un esempio, questo progetto da solo, noi dobbiamo gestire 34 exabyte di dati al giorno, ok? Quindi, sembra immenso, ma è fattibile e ha dei risultati molto buoni. Stessa cosa, acqua. Questo è un altro progetto che abbiamo fatto in Africa, Kenya. Il problema che abbiamo qui è che il 40% delle persone che vivono in Kenya non hanno accesso a acqua potabile, ok? E più di 3 milioni che sono nelle regioni periferiche hanno acqua potabile, però questa c'è e non c'è, ok? E solo 9 di più di 50 postazioni di acqua hanno acqua in modo continuo, ok? Questo è un problema che impatta milioni di persone. Qual è stata la soluzione, ritornando al fatto di un approccio globale rispetto a un approccio più sistemico rispetto a un approccio specifico? Fino ad oggi, quando c'erano problemi di questo tipo, le varie associazioni umanitarie metti insieme un po' di fondi, vai giù, crei un nuovo pozzo, una nuova diga, una nuova sorgente di acqua in modo distribuito, ma questo non risolve il problema. Perché una volta che l'hai fatto, questo richiede manutenzione, richiede la connessione con tutto il resto. È abbastanza che una piccola cosa si rompe e non è connessa con il resto, una siccità momentanea e tutto il sistema e tutto l'investimento va a zero. La cosa che noi abbiamo fatto qui è che abbiamo messo una serie di sensori alle pompe delle diverse stazioni, abbiamo integrato tutti i dati di manutenzione, i dati storici, i dati meteorologici, i periodi di siccità e siamo in grado di gestire tutta questa rete distribuita in un modo molto migliore al punto tale che più di 300.000 persone oggi hanno accesso a acqua potabile in modo consistente e 500.000 animali. Voi dite, è una piccola cosa, è un grande passo e dimostra che si può fare. L'ultima cosa che vi voglio far vedere, perché il tempo vola, magari un'altra, ma l'altra cosa è collegata al cibo e alle culture e all'agricoltura, perché è un'altra grossa parte che ha un impatto all'environment. problemi che noi abbiamo, ok, due migliaia di miliardi di dollari il business dell'agricoltura, il problema è che non siamo in grado di farlo in modo abbastanza efficiente, l'unica cosa che facciamo è semplicemente deforestizziamo, tagliamo alberi per avere più spazio su dove coltivare per creare il cibo che abbiamo bisogno per la popolazione in eccesso e invece dovremmo fare qualcos'altro, cercare di ottimizzare il sistema per aumentare la resa dell'agricoltura in modo che riusciamo a ottenere più cibo dalle culture che abbiamo adesso. E si può fare, l'abbiamo fatto, cose che abbiamo integrato qui sono ancora dati storici di meteorologia, immagini satellitari, immagini di sensori in loco e mettendo insieme tutto questo siamo in grado di capire la salute delle coltivazioni, siamo in grado di capire con un anticipo di tre mesi quale sarà la resa di una particolare coltivazione, ma ancora più importante, siamo in grado di fare per le coltivazioni quella che per l'uomo sarebbe una medicina personalizzata. Non mettiamo il pesticida e il diserbante in modo omogeneo sempre perché sappiamo che potrebbe succedere qualche cosa, lo facciamo solo quando abbiamo indicazioni che c'è un problema. E anche lì un impatto diretto, riusciamo a aumentare di 50% la resa delle culture, ma anche diminuiamo tantissimo l'inquinamento. Questi erano solo, ce n'è un altro, ma lo salto, questo qui è la qualità dell'acqua dei laghi, un lago nel nord di New York dove l'abbiamo preso come esempio che si può fare, monitoriamo la qualità delle acque in modo da capire in anticipo quando ci sarà crescita di alghe e prevenirle e ridurle in modo il più possibile effettivo e questo ci permette anche di creare modelli che potrebbero essere utilizzati in altre situazioni simili. E con questo volevo solo darvi un'idea che, come dicevo prima, tecnologie che ci permettono di risolvere questi problemi sono lì. Bisogna cercare di applicarle nel modo giusto. Secondo me possono essere la soluzione parziale, perché non è solo un gioco tecnologico. La cosa che abbiamo fatto con Green Horizon è una cosa che potremmo fare dappertutto. Siamo riusciti a farla solo in Cina. Perché? E questa finisca con una domanda. Grazie mille. Avete sentito più volte la parola sensore. Domani le tre start-up presenteranno delle applicazioni che con i sensori hanno molto a che fare perché i sensori fanno parlare gli oggetti e, se ricordo bene, Alessandro Curioni è responsabile per IBM e anche dell'internet degli oggetti. Quindi un futuro che ci aspetta strabiliante. Domani vedrete che parleranno anche le api, parleranno i posteggi, parleranno le rocce che stanno franando. Insomma, parleranno tanti oggetti, tante realtà esterne. Adesso do subito la parola a un'opera, le prego, lo invito a venire qui. Visto che non ci saranno slide né filmati, gli do la parola per la sua introduzione di venti minuti. Buongiorno. È affascinante quello che ci ha raccontato il signor Curioni. È affascinante la velocità alla quale queste cose si muovono e le possibilità che ci danno. Io ho un approccio un po' più tradizionale a questo piccolo discorso. Arriverò poi, parto dallo stesso punto, cioè se io avessi avuto una presentazione slide sarei partito con i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile perché quello è il metro sul quale quando intellettualmente cerchiamo di approfondire dei temi ci dobbiamo confrontare. Quindi il punto di partenza è lo stesso e il mio punto d'arrivo è un po' una risposta alla domanda che ha sollevato il signor Curioni alla fine. Il mondo digitale. Il mondo digitale è una cosa impalpabile, c'è l'impressione che sia il cloud. Dove hai i tuoi dati? C'è l'io nel cloud. C'è una nuvola, una cosa. Il mondo digitale è basato su una infrastruttura. Come tutte le infrastrutture, il mondo digitale è fatto di cemento, ferro e altri metalli. Comincia con i cavi che collegano tutte le città, che collegano i continenti. Continua con le antenne, con i satelliti, con i server data center, dove noi mettiamo i nostri, che non sono nell'aria, dei cloud, sono sottoterra. È un'infrastruttura, come le autostrade, come le ferrovie. È un'infrastruttura pesante, che richiede investimenti e richiede risorse naturali. Quindi, il primo impatto della tecnologia digitale è di usare ambiente. Prende cemento, si costruisce, compie per le altre infrastrutture. Per farla funzionare, poi, questa macchina, abbiamo bisogno di energia. Già oggi, raffi, il 5% delle emissioni di CO2 vengono prodotte da questi centri, da queste macchine. Questa è una parte della realtà. Noi stiamo costruendo una infrastruttura che abbiamo bisogno per ottenere questi risultati, di cui ci parlava prima il signor Curioni. Avremo tantissimi, abbiamo già oggi, tantissimi sensori, tantissime periferie che osservano, misurano. Abbiamo dei centri dove questi dati vengono trattati, vengono messi in relazione con l'altro, in modi sempre più sviluppati, fino ad avere delle intelligenze artificiali che ci aiuteranno, ci aiutano e ci aiuteranno sempre meglio a prendere le decisioni giuste. E qui faccio un break, ci tornerò alla fine. E poi c'è l'aspetto di come utilizziamo questa infrastruttura. E io sto qui per il momento nella testa, sono in Svizzera, sono in Europa, non sono ancora a livello globale, sono qui da noi, come lo utilizziamo? Una parte è il monitoring, evidentemente tutte queste informazioni vanno raccolte e devono essere portate per essere fruite. Che poi io faccia del monitoring sul contenuto di fosfati nei laghi per gestire le fioriture delle alghe, che io poi lo faccia sui tassi di nitrati o di pesticidi dovuti alla produzione di fiori, c'è un sacco di storielle su quei laghi, conosco abbastanza bene quella regione. Oppure che sia l'inquinamento a Pechino, un altro posto che mi dice tante cose, quindi le polveri fine, gli ocidi di azoto che si trovano nell'aria. Questo ci permette di raccogliere informazioni e se non misuriamo non possiamo gestire. È una vecchissima verità del management, se non misuri non gestisci. E quindi tutte queste misurazioni sono evidentemente possibili a un livello di individualità, di localizzazione nel spazio temporale e di specificità del fenomeno che io osservo, che sono incomparabilmente più disvolupate di quelle che erano 10-15 anni fa. Abbiamo il sistema di satellite Sentinel che l'Europa sta mettendo in orbita, che se mi ricordo bene circa una volta alla settimana fa un ripasta nello stesso posto e permetterà, forse talune cose le si possono già fare oggi, di decidere in tempo reale per esempio dove annaffiare, che cosa annaffiare, quale cultura ha bisogno, eventualmente toccata da un certo parassita e quale tipo di pesticida metterci sopra per fermare l'infezione. Evidentemente queste sono quantità inconmensurabili di dati che devono essere trattati. Il monitoring, questa è una parte delle cose che possiamo fare con questa bellissima macchina che abbiamo costruito, questa infrastruttura. E poi c'è una cosa molto più integrata, e qui vado perfettamente d'accordo con il signor Coglione, io gli metterei sopra un titolo per il momento, il futuro poi dopo il 2050 staremo a vedere. Oggi il nome che porta a questo tipo di discussioni è Industria 4.0. Cioè noi integriamo la nostra produzione industriale, i metodi di produzione, il sustainable consumption and production, come si dice nel gergo musiano, lo integriamo con queste nuove tecnologie e sviluppiamo delle nuove maniere di produrre, di sezionare la produzione in diversi parti del mondo, o gestire in tempo reale, produrre quello che il cliente chiede praticamente il giorno dopo. E questa c'è la storiella che raccontavo anche al signor Petralli quando ci eravamo incontrati la prima volta per preparare. Io mi immagino un futuro dove io sono a casa mia, decido di fare più footing, di andare a correre, decido di comprare un paio di scarpette da ginnastica, mi faccio una fotografia col telefonino tridimensionale, vado su internet, guardo il tipo di modello che mi piace, lo ordino, lo pago evidentemente in modo digitale, gli mando la fotografia del mio piede, mi arriva nel giro di qualche minuto un file che io poi mando al 3D printer, allo stampante tridimensionale all'angolo di casa mia che sostituirà le centrali per le lavatrici. Questi qui ordineranno del materiale che sarà probabilmente, e spero, materiale riciclato al locale broker di risorse naturali riciclate che poi per drone evidentemente me lo fa entrare dalla finestra 12 ore dopo. Ecco, questo è un mondo... Ecco, cosa succede dietro? Cos'è scomparso in tutta questa storia che ho raccontato? È scomparso il Vietnam. Oggi le scarpette le compriamo, cioè portiamo il caociuc in Vietnam, portiamo tutto quanto in Vietnam, poi lì lo fanno, evidentemente costi di lavoro bassissimi, non so, sono i cinesi che hanno esportato queste manufatture in Vietnam perché i cinesi già costano troppo, i vietnamiti l'ultima volta che ci siamo, l'unica volta che ce l'abbiamo stati, abbiamo visto queste fabbriche, evidentemente costi di lavoro bassissimi, magari nel frattempo sono già state delocalizzate, leggevo l'altro giorno la nuova frontiera, l'Africa, dove portiamo questa produzione, i cinesi stanno spostando un sacco di produzione in Etiopia, questi scomparono. L'industria 4.0 è una reindustrializzazione del primo mondo e quindi scompare il trasporto delle risorse naturali verso questi paesi, scompare lo sfruttamento di questi lavoratori e scompare il trasporto di intere nave, piene di container, piene di scarpette. Tutto questo è scomparso, abbiamo cambiato, evidentemente questo che impatto ha sull'ambiente, un impatto estremamente virtuoso. Io uso materiale riciclato, produco localmente, non sposto molto meno le cose, è un effetto indiretto alla terza, è un gioco di banda su tre o quattro bande, però alla fine ho la possibilità di togliere pressione all'ambiente, utilizzando le risorse in maniera molto, molto efficiente. Ok, io ero in Svizzera, in Europa, solo rapidissimamente perché il tempo corre, allarghiamo un momento. In Europa oggi abbiamo, in Europa, negli Stati Uniti, diciamo nel mondo OECD, italiano, organizzazione economica, e quindi i paesi sviluppati. Abbiamo uno stato, un livello di vita, uno stato delle infrastrutture, che è quello che conosciamo. abbiamo un gruppo di paesi, chiamiamoli i BRICS, che possono essere Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia, poi alcuni c'è l'Africa, questi paesi stanno, da noi è relativamente stabile il consumo di ambiente, questi paesi stanno aumentando così, il loro consumo di ambiente e di risorse, evidentemente perché la popolazione è cresciuta molto rapidamente negli ultimi decenni. Il tenore di vita, la capacità di acquisto della gente e dello Stato è cresciuta ancora più velocemente e stanno recuperando il loro ritardo nei confronti dei paesi sviluppati a un ritmo eccezionalmente elevato. Il consumo della Cina da sola negli ultimi tre anni, anni, Cina, tre anni, di cemento, è l'equivalente di quello che gli Stati Uniti hanno consumato nell'intero ventesimo secolo. E dopo questi BRICS arriva il resto del mondo, che è sostanzialmente l'America Latina, meno il Brasile, più il Sud, più l'Africa, che speriamo, questa ondata, ce l'abbiano qualche decennio dopo. Quindi questa è la dimensione del problema. Abbiamo bisogno di un'accelerazione dell'intelligenza per gestire meglio le risorse naturali, abbiamo bisogno di Industria 4.0 e con tutto quello che c'è dietro per far fronte, speriamo, in una qualche maniera alle sfide che ci stanno arrivando dal resto del mondo, che sarà in concorrenza con noi nell'utilizzazione delle risorse, evidentemente. e qui sono completamente d'accordo con il signor Coglione. L'unica cosa è che io ho un piccolo dubbio sull'accettabilità di tutto questo per le società umane. Ammettiamo che io abbia questa intelligenza artificiale che mi trova l'algoritmo e la soluzione al problema. E a me proprio la soluzione non piace. Proprio non mi va questa soluzione. Politicamente, cosa succede? Diamo il potere all'intelligenza artificiale e ci risolve e noi seguiamo. Cioè, un governo fatto così sicuramente va meglio del governo Trump e di molti altri governi che ci sono in giro. però lo vogliamo veramente e se poi per esempio mi dicono guardate che il problema è per esempio smettere di far figli e diminuire la demografia chi è che va ancora dietro a questo qui? E questa è un po' la sfida. Cioè, come inseriamo questa accresciuta intelligenza che va al di là dell'intelletto di un singolo individuo in una società che politicamente è abituata a prendere decisioni in maniera democratica. E voilà. Cioè, ho finito anche io con una domanda ma qui Moebius ci sarà anche l'anno prossimo quindi grazie mille. Tante informazioni tanti dati credo che tutti ricorderemo il dato di Cina in tre anni tanto cemento quanto gli Stati Uniti in tutto il ventesimo secolo. È un dato sicuro. Sì. Benissimo. Io cedo subito la parola quanto le statistiche della Cina cioè che poi sì ma lascio subito la parola ai due interlocutori per cinque minuti ciascuno per porsi delle domande per intervenire su quanto ha detto l'altro per esempio quanto mi ha detto rispetto ai Vietnam bambini funziona vero? Sì. Mi dico sì. Ok. Una buonissima tecnologia questa. No, allora magari vorrei ripartire dall'ultima sua domanda e poi andiamo al Vietnam. Io penso lo capisco benissimo e penso che non dovremmo mai e non lo faremo mai lasciare diciamo la decisione di qualsiasi cosa alla macchina semplicemente per un motivo la generalità e la capacità del nostro cervello e questo lo penso fermamente è così grande che avremo macchine che saranno in grado di superarci sempre di più in cose specifiche ma non di fare la sintesi. ok? Perché il nostro cervello si è evoluto sia dal punto di vista della generalità nel corso di tanti 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 anni ed è quello che ci ha permesso di sopravvivere come come specie perché riesce ad adattarsi a molte cose diverse non è spettacolare in tutto però in media è molto molto funzionale quindi non dovremmo mai lasciare la decisione ultima a una macchina e questo dipende solo da noi però io penso che non dobbiamo neanche lasciar passare che prendere una decisione con meno conoscenza è meglio che prendere una decisione con più conoscenza e obiettività se la macchina mi porta un certo numero di dati obiettivi che mi dicono se tu non decidi in quella direzione avrai questi problemi posso ancora decidere di non fare queste cose però lo faccio perché faccio una sintesi a livello superiore e dice io in questo modo qui non voglio vivere ok però lo prendo in modo cosciente invece arrivare al punto che dice voglio avere più una situazione di nebbia di conoscenza perché questo mi permette di prendere la decisione che voglio prendere perché non voglio sentire i fatti obiettivi da questo è sbagliato perfettamente d'accordo cioè io forse sarei ancora uno tra quelli che direbbe sì sì lasciamo decidere la macchina perché riconosco diciamo così la capacità di gestire la grande quantità di dati non mi fa neanche paura il fatto che un giorno che poi non so quando potrà essere l'intelligenza artificiale mi supererà anche in termini di intelligenza generale in fondo noi tutti vogliamo che i nostri figli siano meglio di noi quindi a un certo punto se questi figli avranno un aspetto molto strano sarà una cosa però so di essere di appartenere probabilmente a una minoranza nella popolazione che è così cool nei confronti di queste cose proprio dal punto di vista obiettivo un altro dato prendiamo per dare un livello perché non c'è solo la capacità ci sono tante altre cose in cui possiamo fare un paragone che ci permette di capire quanto lontani siamo la nostra mente ok per funzionare ha bisogno di poche decine di watt ok dipende ci sono quelle che utilizzano un po' di più volevo non volevo volevo essere politically correct ma di qualche decina di watt le macchine che abbiamo oggi che sono lontanissime da questa cosa generale utilizzano megawatt towards verso gigawatt ok i gap che abbiamo dal punto di vista di evoluzione per queste cose specifiche che all'analizzare il nostro mondo hanno strutturato non è di un fattore 10 100 1000 che si può prendere anche se abbiamo una crescita esponenziale velocemente ci abbiamo 10 15 20 dipende dalle situazioni ordine di grandezza per cui sì magari in un futuro molto lontano ci arriveremo però non sono i problemi che secondo me ci dobbiamo porre oggi e riguardo la la storia del Vietnam secondo me quello è un esempio bellissimo riguardo i cambiamenti sociali della forza lavoro che per esempio l'intelligenza artificiale può portare in tanti casi vediamo sempre il cambiamento dell'intelligenza artificiale perdita di posti di lavoro come un'equazione sicura uno non è sicuro perché secondo me ci sarà un'evoluzione e possiamo parlarne di quello però in alcuni casi la sparizione del Vietnam come forza di lavoro se questa forza di lavoro sono bambini che hanno meno di 8 anni e sono sfruttati per la società per la specie umana è una cosa positiva non è una cosa negativa e questi messaggi in tante situazioni secondo me non vengono fuori sì la questione del 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 sorgere di sistemi che riescono a produrre un sacco di cose quasi indipendentemente indipendentemente da noi richiederà una riflessione molto approfondita sulla nuova maniera di ripartire del reddito e ehm 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 vermogen ehm e patrimonio ehm se un giorno diciamo così tutto quello che è facilmente meccanizzabile e automatizzabile sarà prodotto da da macchine ehm e quindi lasciamo perdere lasciamo parte i servizi tipo coiffure eccetera eccetera magari di psicologia così però tutto il resto verrà prodotto dalle macchine la questione sarà primo a chi appartengono queste macchine secondariamente come si come si distribuisce il prodotto le cose che vengono prodotte da queste macchine e terzo chi le compra se poi non c'è nessuno che ha un lavoro che ha un lavoro e quindi una paga cioè andrà abbastanza in profondo anche nel profondo ancora nella anche nella strutturazione della nostra società e penso che questa è un eh se io se io dovesse suggerire un quinto polo nel suo quadrilatero direi questo cioè quali sono gli impatti social socio-economici e come si possono eh prendere in conto eh in maniera da permettere a queste tecnologie di entrare il più smoothly possibile nella nostra società e ovviamente non c'è una risposta unica eh è molto importante che il mondo accademico industriale politico sociale ha un dialogo aperto noi io ma anche come compagnia crediamo che ci sarà una forza trasformazione e che dobbiamo essere attivi a guidare questa forza trasformazione eh le professioni professioni cambieranno e voglio fare un esempio oggi pensateci un pochettino quasi tutte le professioni diciamo di elite ok quindi non solo parliamo molto molto spesso del 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 tassista eh guida autonoma spariranno tutti però avrà un impatto anche con le professioni di alto livello se uno pensa un medico specialista ok o un bravo avvocato come si differenzia da un avvocato medio o da un medico medio si differenzia per un motivo si differenzia dal fatto che ha più esperienza è riuscito a mettere insieme più conoscenza con il tempo a specializzarsi di più per cui quella cosa che lui fa la fa molto molto meglio di tanti altri ok quindi la differenziazione viene dalla iper specializzazione e tutto il nostro mondo di educazione accademico va in quella direzione se io ho dei sistemi esperti basati sull'intelligenza artificiale che prendono la conoscenza specialistica e sono in grado di instillarla in modo molto efficiente e la portano sulle dita di un medico average nella specializzazione non ha più bisogno della super specializzazione perché la macchina gliela porta per cui la differenza tra lui e un altro medico sparisce però vuol dire che non c'è più differenziazione no ci sarà e lo stesso per l'avvocato e tutte le professioni la cosa che succederà è che probabilmente questo medico qui si differenzierà per la capacità di connettere con le diverse discipline mediche di trattare la comorbidità per esempio di avere un approccio con il paziente migliore di dedicare più tempo al paziente e la differenza tra un medico specialista buono e un altro verrà valutata in questo ambito e non in questo però è chiaro che ci dovrebbero essere tanti cambiamenti anche dal punto di vista dell'educazione perché i processi che abbiamo oggi sono tutti fatti per iper specializzare le persone e non per farli diventare solidi in modo orizzontale quindi ci sono cambiamenti che uno deve cercare di guidare siamo completamente d'accordo quindi penso che per io qui non devo aggiungere niente ecco stavo pensando dove potreste avere qualche disaccordo fondamentalmente una domanda da porre e a chi tiene sono interista io per la Roma io 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 una domanda da porre a chi per l'IBM è a capo della ricerca e sta pensando dove ricercare che cosa portare alla società anche poi facendo profitti in ultima analisi più che legittimo ecco che domanda porrebbe specifica per sapere dove stanno andando e per vedere se hanno magari dei punti deboli oppure no per chiederle a lui ma una glielo ha suggerita adesso se mi era molto molto poco modesta senza neanche chiedere gli ha suggerito qualcosa io penso che mi immagino così che l'IBM si trasforma lentamente sempre di più da una società tra una company industriale e una company di servizi dove fate anche molta applicazione interazione con clienti eccetera penso che la presa in conto di tutti gli aspetti sociali socio-economici nella strutturazione fin dalla ricerca penso che questa è una cosa estremamente estremamente importante per un'impresa e poi per un'impresa che in fondo tenta di produrre i cervelli di domani ecco ma di solito l'IBM dice negli ultimi anni che propone soluzioni l'IBM è soluzioni eravate ad un certo punto servizio cloud eccetera poi ve le ha portati via Amazon forse non lo so e adesso proponete soluzioni a singoli problemi quindi dovete parlare con la politica dovete parlare con gli specialisti di settore siete molto abituati a fare questo quali sono gli esempi di soluzioni davvero che già ci sono molto magari più circoscritte rispetto all'inquinamento di Pechino allora quando uno c'è ovviamente una trasformazione non solo della nostra industria ma di tutte quante perché se oggi siamo qui a parlare di industria 4.0 intelligenza artificiale è anche dovuto al fatto che c'è stata una democratizzazione del information technology attraverso la cloud per esempio e questo è un dato di fatto perché qualcuno oggi la grande parte non tutto ancora ma una grande parte dei servizi vengono vengono usufruiti su una cloud semplicemente perché sulla cloud io posso mettere un software una soluzione che col tempo adeguo e la rendo sempre più efficace e la persona che la usa non deve spendere per avere questi adeguamenti non deve spendere per gli investimenti di capitale non deve e si riesce ad arrivare ad un'economia più di scala però detto questo non è un mondo questo dell'intelligenza artificiale applicata ai problemi industriali che può essere solo guidato da una platform io ti do dei servizi e ti do una cloud e tu fai tutto perché le applicazioni più importanti pensate per esempio la sanità health care tu non hai solo bisogno di dati e di un'intelligenza artificiale per poi arrivare una risposta devi avere i dati i dati li devi trattare con tutta la sicurezza e privacy necessaria devi controllarne la qualità li devi portare su una platform devi fare in modo che i tuoi modelli che hai creato siano completamente senza pregiudizi e bias metti tutto insieme e poi effettivamente puoi cercare di creare una soluzione che avrà un valore nel tempo per cui questo creare le soluzioni è importante semplicemente perché devi fare qualche cosa che sia solida e considera tutti gli aspetti se vuoi fare veramente qualche cosa che produce valore e creare credibilità ci sono alcuni minuti per il pubblico vedo tante belle teste fra la gente presente in sala se qualcuno di voi vuole porre una domanda lo so che in pochi minuti è sempre difficile ma se qualcuno vuole porre una vera domanda sintetica Paolo Paolini presidente di giurie al Möbius da tanti anni grazie una domanda o dubbio sulla obiettività dei dati su qualcosa di direzione sui dati però due dubbi sull'obiettività numero uno la scelta di qualità di guardare non è obiettiva ma di per sé se uno lo zona o non lo guarda non sa che c'è per esempio l'altra un pochino più profonda è siamo sicuri che il passato i dati del passato determino il futuro però ci sono elementi di frattura soprattutto nei processi decisionali ci sono dei momenti di frattura in cui uno va fuori schema tutti i dati dicono una cosa anzi i bravi decisori sono quelli che fanno frattura allora questo è il dubbio sull'obiettività dei dati bella domanda siamo sicuri che tutti i dati del passato ci aiutino allora questo è un grosso problema è un grosso problema anche per l'intelligenza artificiale che è il problema che dicevo prima parte del problema dei pregiudizi e dei biases dei dati se io io dipendo dipende cosa per che cosa utilizzo questi dati ma è chiaro che i dati sono prodotti nel passato non sono prodotti nel futuro per cui vengono accumulati nei dati una grande quantità di pregiudizi e di biases che se io non sono in grado di capire e pulire ok il modello che io creo è un modello che sarà bias e avrà dei pregiudizi per cui c'è un sacco di valore noi crediamo fortissimamente che le tecniche che faranno una differenza nel futuro sono esattamente quelle che saranno senza bias e senza pregiudizi faccio un esempio se io prendo tutti i dati nel passato per creare un modello di intelligenza artificiale per fare una preselezione del personale ok per identificare chi potrebbe diventare CEO di una grande azienda e prendo i dati così come sono è chiaro che c'è dentro un bias maschio-femmina gigantesco e il modello ti porterà a scegliere un uomo e non una donna ok per cui se io non faccio una pulitura dei dati il risultato è sbagliato non è quello che voglio quindi tanto lavoro che deve essere messo lì e anche rispetto alle cose di frattura ricordiamo bene non sono solo dati strutturati che io metto dentro io metto dentro tanti dati che vengono per esempio dalle pubblicazioni scientifiche e dai report non solo quello che c'è nelle tabelle quello che c'è scritto ok quindi uno cerca di integrare la conoscenza e il risultato di questo non è definitivamente di uno questa è la verità è semplicemente un sunto di quello che è conosciuto fino a quel momento poi sta a noi investigare ulteriormente per vedere ha senso o non ha senso c'è questa discontinuità o no cioè la testa ci deve essere sempre benissimo ti avrei coinvolto se non alzavi la mano c'è Luca Gambardella che è il direttore dell'ISDIA dell'istituto dalle mole di studi sull'intelligenza artificiale che assieme a UBS sta portando qui un centinaio di posti di lavoro per dare un elemento molto concreto e per dire qualcosa che tu non avresti mai detto però tu sei abituato a dare risposte per quanto riguarda l'intelligenza artificiale puoi fare anche magari una bella domanda saluto intanto tutti anche Alessandro che ci frequentiamo su tanti tavoli ormai hai fatto vedere questo discorso sui dati che crescono in maniera esponenziale e io penso che oggi ci sia una guerra sui dati perché chi possiede i dati alla fine genera conoscenza la guida adesso non voglio dire manipola perché c'è un terreno neutro adesso quindi ci sono come sanno tutti alcune aziende che sui dati stanno creando del business parliamo di Google parliamo di Facebook parliamo di Amazon IBM si sta posizionando in questo terreno del dato magari gestito anche in una nuova ottica o voi vi ponete diciamo su una dimensione che il dato arriverà da una terza fonte e voi poi diciamo lo gestirete ecco ok allora noi crediamo fortissimamente che i dati diventeranno lo sono già ma diventeranno la moneta del futuro più dell'oro più di qualsiasi altra cosa perché la conoscenza è la cosa che avrà sempre più valore e la conoscenza è nei dati non sempre c'è un sacco di spazzatura però on average questo è la realtà ora noi pensiamo che la proprietà dei dati è di chi li produce e non solo la proprietà dei dati è di chi li produce anche la conoscenza che c'è dentro in questi dati che possiamo estrarre con l'intelligenza artificiale è di proprietà di chi li produce quindi nel nostro approccio con i nostri clienti sì noi lavoriamo con voi utilizziamo i vostri dati eventualmente per creare i modelli ok però i dati e la conoscenza che ci tirate fuori è vostra e secondo noi questo deve essere vero non solo per il business ma deve essere vero in modo generale anche per le persone e secondo me non c'è abbastanza consapevolezza sul valore del dato noi come società ok pensiamo che scrivere un messaggio su un social network o fare una search sul motore di ricerca o riempire un dato formulario ok è qualcosa che facciamo perché vogliamo avere un servizio di ritorno però non ci chiediamo quanto paghiamo per questo servizio ce lo danno gratis no non te lo danno gratis ok quando tu metti quei dati lì ti danno un servizio che in tante situazioni ha un valore molto inferiore del 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 valore dei dati che tu condividi per cui secondo me c'è tutto un processo che deve succedere per portare questa consapevolezza e noi come azienda come dicevo prima i dati sono del nostro cliente gli insight sono del nostro cliente e così noi lavoriamo io sono qui perché ero uno specialista dell'ambiente e delle risorse nei due poli però mi permetto visto che mi occupo anche di public policy questa è un'altra di queste questioni intelligenti molto il dato appartiene a chi lo produce e chi lo produce cioè il dato che io cerco su google chi lo produce in fondo lo produce chi usa google il cittadino comune la proprietà dell'informazione non dovrebbe essere di google ma dovrebbe essere del cittadino privato a meno che non gli sia stata pagata nell'ambito di un regolare contratto questo è un primo aspetto che secondo me è ancora molto poco ben regolato oggi la seconda cosa è queste grosse imprese queste piattaforme google facebook eccetera sono hanno una tendenza innata al monopolio al monopolio come le gestiamo generalmente i monopoli o li si nazionalizza li fa diventare proprietà pubblica o li si regola in maniera molto rigorosa oppure li si spacca e si fa un sistema come hanno fatto con le compagnie telefoniche negli Stati Uniti e questo penso che sarà un'altra delle questioni che si potrà sollevare un giorno questo è anche un legame politico socio-economico e tecnologie digitali comunque la definizione di cui si parla del dato è non solo la prossima moneta ma è una natural resources è una risorsa naturale ecco e con questa risorsa naturale chiedo a chi è stato per dieci anni a dirigere il Dipartimento Federale della Miete come è messo il pubblico siamo ricchi o dovremmo andare a elemosinare i dati che ci servono per prendere delle decisioni politiche e conoscere per deliberare dovremmo andare ad elemosinarli e a pagarli a chi li ha ma già oggi li paghiamo già oggi lo Stato acquista una quantità molto rilevante di expertise da enti da compagnie da società da individui che hanno conoscenza di questi dati o di sintesi di questi dati fa capo a delle università che gli appartengono per ottenere dei consigli e poi non bisogna dimenticare che il processo politico non conduce necessariamente alla soluzione giusta ma conduce alla soluzione possibile in cui trova un accordo tra le parti che lo rende stabile abbastanza per fare un pezzo di strada con questa quindi magari contraddice poi alla fine gli dati che siamo a disposizione perché questo è quello che oggi si può fare in una società quindi no non penso che per il momento non vedo un pericolo al momento che perlomeno lo Stato svizzero vagabondi in cieco nello spazio politico prenda decisioni sciocche non penso che il pericolo è molto immanente Derek Deckercove voleva fare una domanda Derek Deckercove che noi definiamo da sempre l'erede di Marshall McLuhan allora grazie per tutto questo il discorso ha cambiato dal tipo di data da che parla IBM e di quello che si tratta dei data personali della gente su di questo è per caso che due settimane fa abbiamo presentato la prima app applicazione creata in Italia che si chiama Whipple la stessa cosa che People però con la W che fa usa del GDPR l'intelligente decisione dell'Europa di redare processione alla persona e fanno di questo un accordo di condivisione dell'uso di queste data tra i over the top e le persone e la domanda sarebbe questa a voi tre che pensate e questo vedo che già Galaberda non è d'accordo però siamo qui per non essere d'accordo che pensate della possibilità di non solo avere possessione repossessione dei dati ma anche di farne soldi e l'applicazione è orientata anche in questa direzione non per gusto di lucro ma per obbligare la gente con un qualche tipo di interesse a portare finalmente attenzione a questa proprietà della loro risorsa naturale ultimo bisogno di toccare la gente sul portafoglio per far sì che si renda conto di quanto sia importante dare dei dati a qualcun altro che dice di questo io penso che se fate nel modo giusto iniziative che portano portare alla consapevolezza del valore dei dati personali sono tutte buone iniziative vanno fatte nel modo giusto prego un'ottima risposta molto chiara l'avevo già detto prima il proprietà dovrebbe restare a chi comincia il processo e questa è una difesa collettiva degli interessi dei singoli quindi si potrebbe concepire questa questa iniziativa mi parla di aver visto qualcosa sui social media su questa iniziativa la si potrebbe concepire come una cooperativa o un sindacato infatti in Svizzera c'è un nuovo che è inventato Midata un po' che mi migrò ma è Midata è una cooperativa che gestisce un po' che mi migrò è un po' che mi migrò che mi migrò è un po' che mi migrò Grazie